Bene, in questo breve video volevamo analizzare l'idea fondamentale nella metafisica di Aristotele di essenza. Qui emerge una riflessione accurata di questo termine che è, possiamo dire, consustanziale al percorso storico della filosofia. Infatti la filosofia, per come la intendiamo noi adesso, è un qualcosa che nasce principalmente con la domanda socratica del TST, cioè quella domanda che nel greco antico chiedeva che cosa è e quindi chiedeva in qualche modo la definizione di qualcosa. E questo era Socrate, Socrate che andava in giro appunto per l'Atene del IV secolo avanti Cristo e domandava ai cosiddetti sapienti, a quelli che sapevano, che cosa fossero le proprietà essenziali degli oggetti. In fondo la domanda è questa e questa è la metafisica, è una domanda appunto metafisica. Per come viene intesa poi da Aristotele e da tutta la tradizione successiva lungo i duemila anni di storia del pensiero occidentale e oltre, sarà in qualche maniera Heidegger che riuscirà a risemantizzare il termine metafisica in essere tempo e a dargli una connotazione che faccia propria la differenza ontologica, cioè la differenza tra ciò che è l'ente e ciò che è l'essere, quindi portando su un piano di differenza proprio lente dall'essere. Ma non solo, poi ci sarà anche la tradizione analitica che sempre alla fine dell'Ottocento e all'inizio del Novecento porterà in maniera considerevole delle riflessioni su che cosa sia o non sia l'essenza di qualcosa. A partire proprio dal positivismo logico della scuola di Vienna e poi da lì tutto ciò che ne deriva con Wittgenstein. Ma adesso ritornando sulla tematica che si riferisce ad Aristotele, quando noi ci domandiamo che cosa è qualcosa stiamo facendo una domanda che riguarda la propria essenza e la propria essenza potrebbe essere identificata per esempio con la materia, con la forma o addirittura con il sinolo, sinolos, cioè qualcosa che include all'interno di sé sia la forma che la materia in una unità che mantiene entrambe questi differenti aspetti. Però l'essenza è un qualcosa che potrebbe anche non coincidere con materia e forma e o con il sinolo. Allora Aristotele ci fa notare come l'essenza, e questo è un termine classico della filosofia che poi si affermerà per esempio con la scolastica, tra essenza e accidente, cioè le proprietà essenziali sono differenti dalle proprietà accidentali. Le prime, quelle essenziali, sono necessarie, cioè sono qualcosa che qualcosa è necessariamente, cioè che non potrebbe non essere, è una proprietà che se non c'è ne va della cosa stessa, non può non esserci, è necessaria, e sono in virtù di ciò che quella cosa è, mentre le proprietà accidentali potrebbero anche non esserci, cioè sono un qualcosa senza le quali l'oggetto, l'ente di cui stiamo parlando esisterebbe comunque, e quindi sono contingenti, non sono necessarie. Le caratteristiche principali con cui Aristotele definisce l'essenza di qualcosa, che possiamo definire in termini contemporanei, l'essenza di X, cioè di questo qualcosa che è un'incognita e che può essere sostituito da qualsiasi ente, sono principalmente quattro. E Aristotele ci dice l'essenza di X può essere cosa è X, oppure ciò che X è per sua stessa natura, ciò che X è in virtù di se stessa, e infine questo è l'espressione di X all'interno di una definizione di X, cioè quella che potremmo definire una formula. Quindi l'essenza di qualcosa è che cosa questa cosa è, che cosa questa cosa è per sua stessa natura, e che cosa questa cosa è in virtù di se stessa, e che conclusivamente può essere riassunta in una definizione, in una formula. Ecco, e qui ritorniamo appunto al problema socratico che chiedeva le definizioni per mettere in crisi la conoscenza anche dell'interlocutore, che in qualche modo era implicita, tacita, ma non si riusciva ad esprimere verbalmente, o comunque invece nel momento in cui la si esprimeva si riusciva a entrare in contraddizione con se stessi, e per cui si metteva proprio in ridicolo l'interlocutore dimostrando i fondamenti fallaci, non logici, non razionali che tutti noi abbiamo quando esprimiamo delle opinioni, anche all'interno di ambiti dei quali noi ci riteniamo esperti. Ecco, allora questo è quello che ci interessa, cioè che cosa è l'essenza? E qui semplicemente non diamo una soluzione, presentiamo il problema aiutandoci con Aristotele e con la metafisica di Aristotele in particolare. Possiamo dire che appunto la definizione riassume in qualche modo, la formula dell'essenza è riassunta dalla definizione, definizione in re, cioè che è presente nella cosa stessa, è la cosa stessa che è l'attrice, possiamo dire così, della definizione. Esistono diverse tipologie di essenze, perché noi possiamo parlare delle essenze tipologiche o individuali, cioè delle essenze di genere o di specie, cioè essenze che fanno riferimento a degli universali, a degli universali che non sono quindi individuali, ma sono concetti in qualche maniera astratti per quanto hanno un certo tipo di relazione che poi può essere indagato con gli individui singoli, no? Per esempio un uomo sicuramente ha la proprietà di essere un essere umano, per esempio, quindi un uomo singolo, un singolo uomo, qualsiasi rappresentante della specie che oggi noi con termini contemporanei chiameremo appunto di Homo sapiens, ha quella caratteristica di essere un Homo sapiens. Questa caratteristica generale è una caratteristica universale che però poi troviamo anche nei vari individui. Aristotele avrebbe detto che l'uomo è un animale razionale, zon logonekon, cioè quell'animale che possiede il locus, il linguaggio, la ragione e quant'altro. Quindi vediamo come la proprietà essenziale possa essere, abbiamo detto, universale, ma possa riferirsi anche agli individui. Ma la proprietà di un individuo, cioè quella proprietà che lo rende ciò che è, per sua stessa natura, è molto più complicata forse da indagare. Mentre noi per le essenze universali possiamo cercare di dare delle definizioni, per esempio per gli universali naturali. Possiamo cercare di capire quale sia ad esempio l'essenza o la definizione che racchiude l'essenza dell'acqua e noi in termini contemporanei potremmo dire H2O, alla luce anche delle scoperte scientifiche, della chimica che nell'Ottocento si è affermata, possiamo tranquillamente sostenere questa tesi, cioè che la proprietà essenziale dell'acqua, di un tipo naturale, è essere H2O, quindi è riassunta in questa definizione, e così anche per l'oro, per il metallo e per molti altri enti di natura. E lo stesso possiamo fare anche con dei tipi un po' più astratti, per esempio che cos'è la giustizia, che cos'è il bene, che cos'è eccetera, che cos'è per esempio anche l'essere presidente del consiglio, è qualcosa di astratto, noi andiamo sul dizionario, vediamo presidente e leggiamo la definizione sul dizionario, allora comprendiamo che cos'è. Se vogliamo capire cos'è un libro, ecco che non è un tipo naturale, però è sempre un tipo, cioè un tipo universale, andiamo sul dizionario, leggiamo la definizione di libro e a quel punto abbiamo l'essenza, la proprietà essenziale espressa in una definizione. Bene, questo è per i tipi universali, per le essenze universali, mentre quando ci riferiamo alle essenze individuali, la problematica è più evidente. Infatti noi abbiamo bisogno qui di una proprietà necessaria, che è necessaria affinché quell'individuo sia quell'individuo. Noi ci poniamo nell'ottica dell'Atene, del IV secolo a.C., e vediamo allora Socrate. Quando noi ci vediamo il personaggio di Socrate davanti, dobbiamo definire quali sono le sue proprietà essenziali. È molto complicato, ovviamente si comprende bene, perché noi potremmo benissimo dire, per esempio, che una proprietà che ci sembra così connaturata con Socrate non è in realtà qualcosa che lo definisce propriamente, per esempio appunto l'essere filosofo. Socrate poteva benissimo essere comunque se stesso e non diventare un filosofo. Quindi poteva anche non essere nato nell'Atene del suo tempo, poteva anche non essere il maestro di Platone, poteva anche non avere sposato Santippe e via dicendo. Quindi si capisce bene come sia complicato. Ci sono risposte che poi sono state date nel corso della storia della filosofia, che possono essere riassunti in due grandi categorie. Le essenze individuali fanno riferimento ad una componente materiale, quindi per esempio Socrate è quell'uomo, quell'individuo che è nato da questi genitori, che quindi ha una certa proprietà, che per così dire è genetica, quindi che riguarda la sua componente materiale, i suoi geni che lo definiscono come individuo, oppure a livello formale, è quell'individuo che ha quella specifica anima, cioè quella forma che informa la materia, che dà la forma alla materia di cui è composto, quindi guardandola più da un punto di vista ideale e non tanto da un punto di vista materiale, come invece fa questo secondo filone, per generalizzare ovviamente, però sembra indubbiamente più complicato quando parliamo di essenze individuali e a tal punto che possiamo anche domandarci se realmente esistono queste essenze individuali, oppure l'essenza di un individuo ultimamente, in ultima analisi, deve essere riassorbita all'interno di una essenza di natura universale, generale, e quindi dire semplicemente che Socrate è un uomo e quindi ha conseguentemente tutte quelle caratteristiche che hanno gli uomini, per Aristotele l'essere un uomo razionale, cioè un animale razionale, ma nulla di più essenziale. Tutto il resto è contingente, quindi è un rappresentante della specie sostanzialmente, e quindi si scioglie il problema riportandola a categorie più generali o superiori. Qui è per problematizzare, andando anche oltre Aristotele, per problematizzare la questione e porre al centro del nostro interesse il problema delle essenze, a partire da Aristotele, che è un problema forse insolubile, a cui comunque questo video mira a dare un contributo di riflessione, per stimolare la riflessione e cercare anche insieme, magari nei commenti, di dare una soluzione secondo i ragionamenti che ognuno di noi poi autonomamente sviluppa.